Iva Zanicchi in ospedale causa virus covid 19. Iva Zanicchi alla mia età è del 1940 solo che lei è nata in gennaio io sono nato in febbraio lei ha un mese più di me cioè anche lei ha quasi veleggia verso gli 82 anni anche Iva Zanicchi faccia un mese più di me perché Iva Zanicchi è nata nel gennaio del 1940 è una cantante dei miei tempi Iva Zanicchi era tanto bella una volta dio quant'era bella la chiamavano l'aquila di rigonchio l'aquila di rigonchio la chiamavano quant'era bella quanto volava con la sua voce è stata colpita dal virus virus covid 19 non è che sta in casa eh no no sta in ospedale sta in ospedale questo questo virus covid 19 non guarda in faccia nessuno so che pure pure la ex Miss Italia Martina Colombari pure lei ex Miss Italia è ancora bella è stata colpita anche lei dal virus covid 19 lei è il marito però Martina Colombari il marito non sono in ospedale sono in isolamento a casa loro e comunque mi ha colpito di più però la notizia che il virus ha colpito l'aquila di rigonchio l'aquila di rigonchio mi ha colpito di più perché c'ha la mia età capito c'ha la mia età siamo entrambi del 1940 Iva Zanicchi è nata nel gennaio 1940 io nel febbraio 1940 quindi diciamo che siamo equivalenti proprio coetanei siamo e a me ancora non non mi ha colpito non mi ha colpito io non lo so perché ho letto la notizia su Lanza capito Lanza non mi dice se Iva Zanicchi si era o non si era fatta vaccinare cari amici dice in un video postato purtroppo sono finita all'ospedale sono all'ospedale di Vimercate perché ho la polmonite bilaterale sono fiduciosa ma mi spavento un po' quando gli altri mi dicono ce la farai ce la farai nel video Zanicchi è a letto ed è assistita con l'ossigeno con l'ossigeno è assistita però qua Lanza la potentissima Lanza non dice se Iva Zanicchi si era fatta vaccinare perché non lo dici Lanza? bisogna sapere se se Iva Zanicchi si era fatta vaccinare o non si era fatta vaccinare qua non c'è scritto eh io cari amici sto commentando questa notizia dell'Anza questa notizia dell'Anza come mio solito fare ve la metto come line di assunto di questo video però non c'è scritto qua se Iva Zanicchi era vaccinata o non era vaccinata mi meraviglio tanto di te Anza se dai una notizia dai una notizia se dai una notizia del genere devi spiegare se Iva Zanicchi era o non era vaccinata si presume si presume si presume che non si sia fatta vaccinare si presume e che che Lanza per riguardo non l'abbia detto ciò mi meraviglio tanto mi meraviglio cari amici voi che siete più giovani di me avete più vitalità di me fatevelo sapere voi se Iva Zanicchi è stata colpita dal virus perché non era vaccinata o è stata colpita dal virus dopo che si è vaccinata fatevelo sapere voi cari amici capito mi meraviglio tanto di te Anza ma perché non hai spiegato beh insomma morale della favola questa è la situazione va bene io non so proprio che altro dire capito non so proprio che altro dire che altro fare non mi resta che presentarmi per chi non mi conosce io sono serafino massoni ho già detto qual è la mia età circa 82 anni opero sulle grandi piattaforme mondiali daily motion youtube e su youtube ho circa 11 milioni di visualizzazione di visualizzazione io mi sono fatto vaccinare mi sono fatto vaccinare come i due potentissimi leader popolari gioia meloni e matteo salvini i quali i quali come me hanno anche il green pass va bene cari amici va bene cari a tutti e tanti cari e saluti da da serafino massoni grazie a tutti grazie a tutti